La morte dell'imperatore Inca Atahualpa, un evento che segnò la fine dell'impero Inca. La morte dell'imperatore Inca Atahualpa, avvenuta il 26 luglio 1533, fu un evento di grande importanza storica. Essa segnò la fine dell'impero Inca, che era stato uno dei più grandi e potenti imperi del mondo precolombiano. Atahualpa era nato a Cusco nel 1497. Era figlio del decimo imperatore Inca, Huayna Capac, e di una sua seconda moglie, Pacca Ducicela. Dopo la morte di Huayna Capac nel 1527, Atahualpa e suo fratellastro Huascar si contesero il trono. La guerra civile che ne seguì durò tre anni e si concluse con la vittoria di Atahualpa. Nel 1532, Francisco Pizzarro, un conquistador spagnolo, arrivò in Peru alla testa di un piccolo gruppo di uomini. Pizzarro aveva sentito parlare delle ricchezze dell'impero Inca e sperava di conquistarlo. Il 16 novembre 1532, Pizzarro e Atahualpa si incontrarono a Cajamarca, in Peru. Pizzarro aveva pianificato un'imboscata per catturare l'imperatore Inca. Quando Atahualpa arrivò a Cajamarca, gli spagnoli aprirono il fuoco e lo catturarono. Pizzarro costrinse Atahualpa a pagare un riscatto di 13 tonnellate d'oro e 26 tonnellate d'argento. Il riscatto fu pagato in pochi mesi, ma Pizzarro non tenne fede alla sua promessa di liberare l'imperatore. Il 26 luglio 1533, Atahualpa fu giustiziato per strangolimento. La sua morte segnò la fine dell'impero Inca. Le conseguenze della morte di Atahualpa. La morte di Atahualpa ebbe conseguenze di vasta portata. Essa segnò la fine dell'impero Inca, che era stato uno dei più grandi e potenti imperi del mondo precolombiano. La conquista spagnola dell'impero Inca fu un evento traumatico per il popolo andino. Gli spagnoli introdussero nuove religioni, nuove leggi e nuove forme di governo. Il popolo andino fu costretto a sottomettersi alla dominazione spagnola e a perdere gran parte della sua cultura e della sua identità. La morte di Atahualpa è ancora oggi un evento controverso. Alcuni storici sostengono che la sua cattura e la sua morte furono un atto di tradimento da parte di Pizzarro. Altri sostengono che Pizzarro fu semplicemente un uomo ambizioso che vide in Atahualpa un'opportunità per conquistare l'impero Inca. Indipendentemente dalle motivazioni di Pizzarro, la morte di Atahualpa fu un evento che segnò la fine di un'era e l'inizio di una nuova era per il mondo andino.